buonasera a tutti oggi ci troviamo ad arezzo e questa è la chiesa dei santi pietro e paolo dove abbiamo le campane simulate che potete vedere qui sopra e adesso ascolteremo la simulazione di un dot 3 per l'angelo serale delle 19 dovrebbe essere per la messa feriale ma non è stata detta a presto a presto a presto a presto a presto